I legislatori europei hanno votato a favore della fine della vendita di passaporti dell'Unione Europea a cittadini di paesi terzi nel tentativo di impedire agli oligarchi russi di spuggire alle sanzioni come parte della guerra in Ucraina. I deputati hanno deciso di eliminare gradualmente i cosiddetti passaporti d'oro entro il 2025 e di applicare una rigorosa regolamentazione dei diritti di residenza ai cittadini di paesi terzi. I russi sono il gruppo più numeroso di cittadini di terze parti che accedono a passaporti di questo tipo e sono spesso molto vicini al regime di Putin. Questa pratica attira personaggi loschi, affari loschi. Abbiamo visto che ci sono molti oligarchi russi che hanno acquisito la cittadinanza o la residenza dell'Unione Europea. In passato ci sono stati criminali di guerra o addirittura l'intera famiglia reale saudita ad un certo punto ha acquisito la cittadinanza che è poi stata revocata. Quindi non si tratta di investimenti legittimi nell'economia dell'Unione Europea. Almeno 130.000 persone sono riuscite a ottenere i passaporti europei permettendo di guadagnare 21,8 miliardi di euro di entrate ai paesi che li offrono. È molto difficile revocare la cittadinanza ma non impossibile. È stato fatto su di una manciata di casi. A Cipro e a Malta per esempio quando è risultato che non tutte le informazioni che erano state fornite erano veritiere. Ammettiamolo, bisogna vedere da dove vengono queste persone. Se i gruppi principali sono russi e cinesi dovremmo fare affidamento sulla Russia e sulla Cina per avere informazioni sugli oligarchi vicini a Putin? Quanto sono affidabili queste fonti di informazione? La risoluzione passerà adesso davanti alla Commissione e agli Stati membri per la revisione e per una possibile messa in opera.